Ciao a tutti ragazze, oggi volevo registrare il video dei promossi bocciati di luglio questo è il video in collaborazione con Cinzia 2000 Zaida che saluto e poi dopo qui vi lascio il link al suo canale allora iniziamo subito con i prodotti come primo prodotto vi faccio vedere questo shampoo della Carnier alla camomilla, all'estratto di camomilla e miele dice che schiarisce e ravviva i riflessi, i capelli chiari, senza parabegni e stratti naturali io questo sarà il terzo, quarto che finisco perché veramente è ottimo veramente io ho le mesh, penso che si può notare ho le mesh e quando uso questo shampoo me le riavviva molto mi lascia anche i capelli molto morbidi, setosi, lucidi io li lavo dopo 5 giorni i capelli, quindi me li lascia puliti per 5 giorni quindi questo prodotto è promosso altro prodotto promosso è questo deodorante dell'Avon ed è il Little Black Dress è ottimo io dell'Avon ho provato e riprovato e riprovato 150.000 di odoranti, quasi tutti li ho comprati e sono veramente veramente buoni anche se va a finire un po' sui vestiti non me li macchia, non succede nulla e quindi questa è una cosa ottima l'unica pecca, come vi dico sempre, è che perde prodotto ai lati oppure se non state attenti vi cade anche a terra e questa è una pecca anche perché si perde prodotto che potrebbe essere utilizzato però comunque è promosso altro prodotto promosso è questo correttore della Garnier coffee correttore, caffeine, coffee, caffeine, correttore rolon occhi colorato 2 in 1 crema idratante antiocchiaie più correttore colorato beige chiaro, antiocchiaie doppia azione effetto defaticante più copertura immediata effetto fresco immediato il prodotto è questo qui se riesco a cacciare e lo faccio vedere eccolo qui il prodotto è questo si svita e qui ha la rotellina che gira e esce il prodotto questo è il colore è chiaro allora l'unico mio sbaglio diciamo così è stato di prenderlo troppo troppo chiaro infatti io per coprire le occhiaie dovevo farci molte passate perché altrimenti non me le copriva del tutto se facevo per esempio due passate tipo così e così io poi picchiettavo con il dito ma non me le copriva quindi dovevo fare più passate proprio perché era chiaro diciamo che per coprirlo io utilizzavo il fondotinta liquido perché col correttore in polvere siccome è molto chiaro si vedeva tantissimo che c'era quest'alone bianco bianco beige chiaro e quindi questa è l'unica pecca però non mi faceva le pieghette si toglieva soltanto con lo struccante a meno che uno non strofinava ma devo dire la verità ogni tanto mi toccavo e non si toglieva io poi ve l'ho detto passavo il fondotinta e la cipria restava lì e non si muoveva quindi è promosso altro prodotto promosso è o promosso o diciamo mettiamolo tra i nii è questo mascara della Essence questo qui il Lush Mania Reloaded e ha lo scovolino lo scovolino è questo allora questo mascara qui dice Force Lashes Mascara però sinceramente a me non dava tanto l'effetto di cia finte perché non so dava un effetto più naturale non non ve le allungava vi dava soltanto un po' di volume e questo era allungare non le allunga a volumizzare un po' le volumizza io infatti questo non lo utilizzavo mai da solo lo utilizzavo sempre con un altro mascara con lo scovolino più cicciotto oppure con il mascara che vi ho fatto vedere nei promossi bocciati del mese precedente che in questo momento non ricordo come si chiama il Go Wild Lashes una cosa del genere e lo utilizzavo insieme e usciva un effetto bellissimo da solo non diciamo che non mi convinceva tantissimo però per un effetto scusate per un effetto più naturale va benissimo quindi lo mettiamo tra i miei altro prodotto diciamo sempre in i è questa lacca della Selex che è la marca che è la marca dove io faccio la spesa la marca del supermercato dove io acquisto e qui dice tenuta forte ad effetto flessibile con filtro UV e provitamina B5 perché lo metto tra i miei allora la lacca in sé è buona fa mantenere la piega tantissimo a mia cugina a mia mamma dura anche una settimana io non utilizzo la lacca la uso sulle clienti e per esempio mia cugina che soffre di forfora quando utilizzavo questa questa lacca non usciva nemmeno la forfora l'unica pecca che secondo me diciamo che bisogna tenere in conto è l'odore l'odore potrebbe dare fastidio a mia cugina per esempio piaceva a mia mamma dava no problemi la faceva tossire molto e anche a me dava fastidio in gola cioè respirare questo profumo veramente potrebbe risultare tossico quindi se vi piacciono gli odori forti e la tenuta è ottima ve la consiglio se non vi piacciono gli odori molto molto persistenti molto molto forti ve la sconsiglio perché questa qui diciamo che è tossica se la vogliamo definire così però la mettiamo tra i nì poi siccome sono stata a mare una settimana sono tornata sabato oggi è 28 sono tornata il 26 luglio mi sono portata dei campioncini perché così occupavano meno spazio e me ne potevo portare tantissimi allora vi faccio vedere prima quelli vi faccio vedere il primo bagno doccia allora io come penso tutti facciano almeno che non sono solo io e la mia famiglia quando andiamo negli alberghi vi danno i campioncini questo campioncino è dell'hotel delle palme Pestum allora come bagno schiuma è buonissimo forse ce n'è troppo poco perché non era pieno e poi è molto liquido quindi quando voi cercate di metterlo sulla mano tende a scivolare quindi come prodotto in sé è buono unica pecca e che è molto scivoloso e che ce ne potrebbe stare anche un po' di più altro bagno doccia questo se non mi sbaglio l'ho preso sempre in un albergo ma non so dove sinceramente è questo qui questo invece rispetto a quello è meno liquido e c'è molto più prodotto lava benissimo lascia un buon odore è buonissimo l'odore tipo odore di borodalco è buonissimo quindi questo è promosso questo è un altro bagno doccia sempre preso in un albergo ma non so dove questo ha anche un buon odore lava perfettamente ma ha la stessa pecca del primo cioè è molto liquido e tende a scivolare il prodotto ce n'è diciamo così così non è abbastanza pieno poi questo è uno shampoo doccia ed ho preso sempre in un albergo il travel care si chiama allora io con questo qui ci facevo soltanto un'applicazione cioè lavavo facevo soltanto una passata era non so se sono io esagerata comunque era troppo poco per me e quindi riuscivo a fare anzi no diciamo che facevo una passata e mezzo perché poi ne rimaneva pochissimo per fare una seconda passata ma qua sopra per esempio non non ci arrivava tantissimo lo shampoo quindi non mi è piaciuto tantissimo quindi i capelli devo dire la verità non i miei capelli tendono ad essere un po' stopposi perché faccio le mesh usando un campioncino non è che si può avere chissà che cosa però anche se facevo soltanto una passata i capelli erano comunque abbastanza puliti erano soltanto un po' stopposi però è normale comunque lo promuovo questo è un altro bagno doccia come quello di prima anche quest'altro questo ne è un altro è dell'hotel degli Hatay penso si legga così Otranto c'è anche il numero in caso volete chiamare e questo è uno shampoo doccia ha la stessa pecca dell'altro questo il profumo è buono anche quello era buono però questo qua è migliore riuscivo a fare soltanto una passata e mezza i capelli rimanevano sempre molto stopposi anzi forse qui ce ne sta un pochino in più ma comunque non facevo le passate come con lo shampoo rimanevano sempre un po' stopposi e ma diciamo diciamo che non ci possiamo lamentare rimanevano comunque puliti faceva il suo lavoro l'unica pecca è che se ce n'era un po' di più era era meglio altro campioncino è questo shampoo doccia della Aurea era verde l'odore è buonissimo devo dire la verità questo qui mi è piaciuto molto di più rispetto agli altri siccome quelli lì quei shampoo erano molto liquidi tendevano a scivolare questo qui aveva era geloso e quindi non tendeva a scivolare dalle mani mentre vi facevate la doccia però ovviamente una pecca è sempre il fatto che ce n'era troppo poco quindi io non non riuscivo a fare due passate l'unico campioncino di balsamo che ho utilizzato in sette giorni è stato questo della Nivea color crystal gloss balsamo ravviva colore ed è questo qui mi è bastato una settimana perché i capelli non li ho lavati non li lavavo tutti i giorni è capitato qualche giorno che lavavo un giorno sì e un giorno no e devo dire che questo questo balsamo è buonissimo io ne metto pochissimo proprio per evitare che magari si elettrizzano si sporcano subito mi è durato tantissimo e mi lasciavo i capelli erano sempre molto crespi stopposi ma si riuscivano più o meno a spettinare con questo e con l'olio dopo quindi è promosso ultimo prodotto che boccio e bocciatissimo è questo primer professional base viso pretrucco dell'Europharma che scusate ok che invierò a Cinzia Cinzia questo è il prodotto segreto che ti tenevo sulle spine comunque è un primer per il viso come già detto si trova in questa confezione allora perché lo boccio lo boccio perché è troppo 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 appiccicoso e doleoso cioè mi dà fastidio resta unto sul viso non è che si si asciuga e poi passate il fondotinta no cioè il fondotinta viene via presso al al primer quindi non mi piace per niente lo faccio vedere non mi piace nemmeno la consistenza sinceramente è questo è molto grassoso e appiccicoso per me l'odore fa pietà io l'ho applicato sì e no due volte vedete anche se se si stende bene resta sempre questa patina come dice questa patina appiccicosa e appiccicosa e lucida e grassosa quindi io penso che per chi ha la pelle grassa è sconsigliatissimo vedete com'è lucida a me non piace sinceramente quindi questo qui è un prodotto che invierò a Cinzia bene ragazze questo era l'ultimo prodotto spero che questo video vi sia piaciuto fatemi sapere se anche voi avete provato qualche prodotto fatemi sapere i vostri promossi e bocciati e niente ragazze ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.